vi presento il nodo grand chester è un nodo a nove passaggi e inizia con la cravatta alla rovescia vediamolo primo passaggio laterale secondo laterale terzo laterale quarto e quinto per il centro sesto sestimo ottavo laterale ancora e nono per il centro guardiamo le pieghe tiriamo leggermente su e poi incominciamo a stringere e prepararsi per le pieghe piega diamo ecco lunghezza parità perfetto nodo grand chester un nodo a nove passaggi importante grazie a tutti